Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. San Valentino si sta avvicinando a grandi passi e io che sono una persona molto romantica ho deciso di realizzare una torta al cioccolato a forma di cuore e ho pensato anche mentre la preparo di stare con voi e di condividere con voi la preparazione di questa torta. Andiamo a vedere insieme come la realizzo e che cosa succederà nella mia cucina. La torta che intendo realizzare è semplicissima, utilizzerò questo tegame a forma di cuore e gli ingredienti sono facilissimi perché utilizzerò 150 grammi di zucchero, andrò ad aggiungere due uova e aggiungo uno yogurt, essendo una torta che poi andrò a ricoprire con il cioccolato preferisco farla abbastanza leggera perché poi all'interno ho intenzione di andare a mettere anche la marmellata di amarene, quindi marmellata di amarene al centro, copertura di cioccolato, quindi non utilizzo il burro ma utilizzo lo yogurt. Fine aggiungo la farina e la bustina di lievito per dolci. L'impasto deve essere morbido come quello di una normalissima torta margherita. Una volta che l'impasto avrà raggiunto questa consistenza potrete andare a trasferire tutto nella teglia a forma di cuore. Adesso la cuocio in forno statico a 180 gradi per circa 30-40 minuti, quello valutato in base al vostro forno. Comunque fino a qui è una semplicissima torta margherita, poi dopo vi farò vedere come la vado a decorare, come la vado a fare. Una torta di San Valentino ha sicuramente bisogno di qualche decorazione romantica, quindi utilizzerò la mia formina a forma di cuore, quella per i biscotti, utilizzerò la pasta di zucchero, io utilizzo questa già pronta perché comunque adesso non ho il tempo per realizzarla io e poi del colorante per alimenti di colore rosso. Prendo un pezzettino di pasta di zucchero e la stendo con il mattarello. Farò delle decorazioni molto molto semplici, niente di particolarmente complicato, ma tanto per dare a questa torta come dicevo un tocco di romanticismo perché appunto è San Valentino, quindi insomma almeno a San Valentino facciamo qualcosa di un pochino più spizioso e romantico. Adesso che ho steso la pasta di zucchero con la formina a cuore, vado a fare un cuore. Lo lascio un momento da parte, è venuto così, non so se lo vedete. Adesso vado a fare un cuore un pochino più piccolo, utilizzerò sempre la stessa formina perché non ce l'ho di tre misure diverse, però poi lo andremo comunque a rimpicciolire con la punta del coltello, sempre che io ci riesca, perché queste cose le sto sperimentando adesso con voi. Ok, ho steso anche l'altro pezzo, vado a mettere sopra la formina e poi vado a fare il cuore un pochino più piccolo, quindi praticamente con la punta del coltello seguo i bordi, così, mi prendo due misure, faccio in questo modo, e vado a disegnarmi un cuore seguendo praticamente la linea di quello più grosso, ma lo vado a fare un pochino più piccolo, in modo da avere poi le tre misure. Andiamo a staccarlo, poi lo modello leggermente con le mani, lo aggiusto, ho due cuori, adesso ne vado a fare uno che sia una via di mezzo fra questi due. Sempre con la nostra solita formina andiamo a fare la forma del cuore, seguo i bordi con la punta del coltello, quindi adesso ho questi tre cuori di misure diverse, adesso con il colorante per alimenti li coloro e li faccio rossi, e lo dipingo semplicemente così. Questi sono i tre cuori delle tre diverse dimensioni, adesso devo aspettare che si asciughi il colore, così poi vado magari a dare un'altra mano di colore, tanto per togliere i segni del pennello, e poi andrò a metterli sulla mia torta. Però siccome per me il romanticismo non ha limiti, sono andata ad aggiungere anche una scritta, ho scritto ti amo sulla carta forno, adesso andrò a ritagliare queste lettere e andrò a scrivere con la pasta di zucchero ti amo, così poi oltre i cuori sulla torta potrò mettere questa scritta. Dopo aver steso di nuovo un pezzettino di pasta di zucchero vado a mettere le lettere che ho precedentemente tagliato sul piano di pasta di zucchero e le vado a ripassare diciamo con il coltello in modo da poterle tagliare. Fate così con tutte le lettere fino a formare la scritta. Ecco adesso ho ritagliato tutte le lettere, quindi aspettiamo che si asciughi la pasta di zucchero e poi andiamo a decorare la torta. Queste sono le decorazioni che andrò ad utilizzare. Ho tolto dal forno la torta, l'ho lasciata un pochino raffreddare, adesso devo tagliarla a metà e andare a mettere in mezzo la marmellata di amarene. Quindi con un coltello lungo come questo la taglio a metà. Ovviamente questa è un'operazione che va fatta molto delicatamente per evitare che si rompa la parte superiore o la parte inferiore. Quindi molto molto delicatamente la vado a tagliare a metà. Sollevate delicatamente la parte superiore e mettetela in un piatto. Io vado a prendere un piatto come questo e la vado a mettere in questo modo. Adesso dovrete andare a mettere la marmellata nella parte centrale diciamo. Adesso vado a mettere l'altro strato, quello che ho tagliato, di nuovo al suo posto. Fate attenzione, fatelo delicatamente in modo che non si rompa. Ecco qui. Adesso dovrò andare a mettere il cioccolato fuso sopra alla torta. Ho fatto sciogliere un po' di cioccolato al latte e adesso vado a ricoprire la superficie con il cioccolato. Aiutatevi con una spatolina per dolci così potete distenderlo in modo un pochino più uniforme. Comincio a mettere la scritta. La scritta la metto lateralmente. Poi vado avanti e metto i cuori. Primo lo metto verso l'alto sulla parte più esterna. Lo posiziono così. Poi metto quello di grandezza media appena più sotto, sempre sul lato. E poi metto quello più piccolo verso la punta. Così, un pochino girato in questo modo. Tanto da dargli questa direzione. Questo lo devo mettere leggermente più su. Ok. E verrà una cosa così. Adesso che ho messo le decorazioni vado a mettere un pochino di cocco lateralmente. Ho messo tutto il cocco intorno. Vedete l'ho messo anche nel lato della torta. In questo modo. Adesso vado ad aggiungere queste palline argentate, tanto per dare ancora un tocco decorativo. Tanto ne vado a mettere una qui dove c'è la scritta ti amo sopra la i, tanto per dare l'idea diciamo del puntino sulla i. E poi metto qualche pallina argentata tra i cuori. In modo da dare un senso di unione tra i cuori. Poi, sempre senza esagerare, però magari ne metto qualcuna anche a lato. Qua, tutto intorno al bordo. Ecco, questa è la torta di San Valentino finita. Vedete che ha, io spero che voi la vediate abbastanza bene, vedete che ha tutte queste palline argentate che gli danno un pochino di luminosità. Ho messo questi cuori, ho messo la scritta ti amo, insomma ho cercato di fare del mio meglio. Spero di avervi dato un'idea utile e carina per la festa di San Valentino. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.